Sviluppare il pensiero critico delle nuove generazioni facendo leva sull'aspetto pedagogico, questo l'obiettivo di Studio Hub. Studio Hub è un centro studi di formazione che si propone di seguire l'individuo a partire dai primi anni scolastici, quindi attraverso il supporto scolastico, fino alla formazione professionale, dunque in età adulta. Maria Teresa Perrotta è la fondatrice del centro che unisce alla tradizione l'innovazione. È innovazione nel metodo e nella gestione, perché comunque tendiamo a porre alla base la pedagogia clinica o comunque gli studi di pedagogia in generale, dunque ponendo attenzione all'individuo, a quello che è il suo bisogno, oltre che la formazione stessa. Una rivoluzione educativa, quella proposta da Studio Hub, che ha al centro i giovani. I giovani oggi hanno bisogno di essere ascoltati, di essere presi in considerazione, di non essere dimenticati e soprattutto di conoscere qualcuno che gli faccia sviluppare quelle leggi interiori, quindi non soltanto dei comandi, delle regole da seguire, ma appunto che diano spazio a quella che è la loro idea, il loro pensiero e un aiuto appunto per sviluppare il pensiero critico. Il centro inoltre si impegna a guidare i ragazzi nella scelta convinta e adatta del percorso di studi, ma a Studio Hub si rivolge anche agli adulti che intendono affinare il proprio curriculum, partendo dal mondo universitario, passando per quello delle certificazioni, fino a giungere all'area specialistica del comparto lavoro. Seguiamo durante il percorso scolastico attraverso dei corsi di doposcuola e di ripetizioni specifici per singole materie, ma anche dopo perché comunque tendiamo ad indirizzare il giovane attraverso il supporto di nuove conoscenze, attraverso lo sviluppo di nuove conoscenze, per farlo entrare proprio nel mondo del lavoro, nel mondo professionale, attraverso quella che può essere l'acquisizione di una competenza in materia informatica, in materia linguistica, oppure ecco proprio l'iscrizione ad un percorso di laurea adatto al suo profilo.